Abbiamo chiesto spiegazioni sulla macchina di soccorso, su quando e come era partita. Lui ci ha detto quello che la prefettura ha fatto in base alle carte, ci ha detto quello che è stato già detto la magistratura. Io sto con Matrone e questo lo slogan che i familiari delle vittime di Rigopiano hanno scelto per la manifestazione di protesta di questa mattina andata in scena davanti alla sede della prefettura di Pescara. Il comitato ha deciso di esplicitare così la solidarietà nei confronti del giovane di Monterotondo in provincia di Roma tra i superstiti della tragedia del 18 gennaio scorso segnalato alla procura dal prefetto di Pescara Provolo dopo la sua visita sorpresa il 18 ottobre nell'ufficio della funzionaria della prefettura che non aveva creduto all'allarme ricevuto telefonicamente sulla valanga. I rappresentanti del comitato dei familiari delle vittime sono stati ricevuti dal prefetto con il quale non sono mancati momenti di tensione. Sicuramente non si è intercalato per niente nella parte di genitore, di padre, di essere umano più che altro con noi ha fatto il prefetto pure oggi con la sua un po' arroganza chiedendomi scusa anche dopo per un gesto che sono entrato come al solito ho dato la mano destra con il tutore mi ha detto in napoletano proprio con me non ci provare dammi la mano buona forse ci sono rimasto un po' male è intervenuto pure Gianluca Tanda dicendogli che più che altro da calmare gli animi e noi siamo andati su tranquilli ci sono rimasto veramente male. Sulla tragedia di Rigopiano è in corso una indagine da parte della magistratura pescarese per chiarire le responsabilità per un allarme sottovalutato ed una tragedia che forse poteva essere evitata grazie ad una maggiore pulizia delle strade invase dalla neve. Il comitato ha chiesto spiegazioni al prefetto rispetto a quanto accaduto in quel maledetto 18 gennaio in cui hanno perso la vita 29 persone, ospiti e staff dell'hotel di Farindola. Le risposte però non sono state soddisfacenti dicono i familiari. Sono spiegazioni diciamo di rito nel senso noi da chiunque andiamo ci sentimo sempre dire che loro hanno la coscienza pulita quindi sembra quasi uno scaricabarile questo ogni volta su tutti gli enti. Hanno fatto tutti quanti il possibile dalla mattina dice che la prima email gli è arrivata tardi forse mezzogiorno mi sembra intorno a quell'ora e ha detto che era un email che i dipendenti e noi turisti in quell'albergo volevano solo andare via avevano paura tutto qua. Che non c'era preoccupazione ma c'era solo paura per le scosse e perché? E ha detto anche che comunque anche se una persona si faceva male rimaneva là, non era compito suo e anzi lui ha detto che ha fatto anche di più, di più di quello che poteva fare lui ha fatto di più. Grazie.